Ciao a tutti, eccoci qua per la pillola di oggi. Prima di iniziare voglio ringraziarvi per tutte le condivisioni, per tutti i mi piace che mettete, per tutte le visualizzazioni dei video e soprattutto per la vostra gentilezza e simpatia che non manca mai. Il libro che vi presento oggi si intitola Rebecca, la figlia del diavolo di Anna Maria Pierdomenico. Questo libro non lasciatevi ingannare dal titolo, è davvero stupefacente, bello, sabientemente scritto e molto gradevole da leggere. Siamo nel 1569 a Cartagena dove una folla sta assistendo all'esecuzione in piazza del capitano della guarnigione locale che si chiama Ramon Fernandez. Quando tutto sembra perduto, arriva Rebecca a capo di un nutrito gruppo di uomini che lo salva. Ma perché lo salva? Perché ha bisogno del suo aiuto per liberare suo padre prigioniero nella fortezza. Ci riuscirà? Che cosa accadrà tra Ramon e Rebecca? Beh, questo scopritelo leggendo Rebecca, la figlia del diavolo di Anna Maria Pierdomenico. Noi ci vediamo domani mattina per un'altra pillola e un altro video. Condividetelo questo video e leggete questo libro, qui lo potete trovare. E niente, buona lettura e mi raccomando, sempre con il sorriso e un buon libro in mano. Ciao ragazzi!